Non parla e non rilascia dichiarazioni la maestra vittima di un attentato la notte scorsa ad Acicatena perché è distrutta e ha paura per la sua vita. Parla l'avvocato Orazio Consolo, illegale dell'insegnante, filmata in queste immagini dei carabinieri mentre nella scuola di Acicatena picchia, insulta e strattona alcuni suoi studenti e per questa ragione è stata sospesa dal servizio. Il portone d'ingresso della sua casa è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco, da qui la presentazione della denuncia durante la quale, dice ancora il suo avvocato, avrebbe pianto per tutto il tempo. Per precauzione la maestra per qualche giorno è andata via da casa sua dove vive da sola. Il penalista collega indirettamente i tre colpi di pistola sparati contro la porta di casa della maestra alla sua sospensione da scuola perché, sottolinea, la signora non ha altri problemi di alcun tipo. Certo, osserva l'avvocato, tutto il cancan mediatico non l'ha aiutata, telecamere e servizi davanti la scuola aumentano le tensioni e poi rischiano di alimentare rancori che qualcuno non riesce a contenere. Indignazione per l'attentato è stata espressa dal sindaco di Acicatena Nello Liveri, dal vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Aleo e dai consiglieri e anche da alcuni genitori che nei giorni scorsi avevano protestato davanti la scuola, condannando le violenze e le vessazioni subite dai loro figli durante le elezioni.